Di sapere fino a dove è volata, quanto tempo è rimasta allo stato selvaggio, insomma di sapere come è finita la sua avventura. Mentre prepariamo l'anello ci auguriamo che passino molti anni prima che torni fra le nostre mani. Sappiamo che un'aquila può tranquillamente vivere oltre 50 anni. Quella che ci apprestiamo a restituire alla natura non ha più di 8 anni. La può attendere una lunga vita se non avrà la sfortuna di incrociare il proiettile o i pallini di un cacciatore di frodo o di capitare in un ambiente naturale inadatto alla sua sopravvivenza. Quest'aquila, che è tra le prime che rimettiamo in libertà, può segnare un momento storico della travagliata vicenda della protezione dei rapaci di Spagna e dell'iniziativa di restituire alla natura degli uccelli dei quali ne sono rimasti pochi affinché possano generare dei nuovi esemplari che vadano a sostituirli ripopolando i cieli berici con le quattro specie di aquile che il nostro paese vanta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.